Tante le segnalazioni arrivate alla questura di Rieti da parte soprattutto di anziani che comunicano di essere stati contattati telefonicamente da presunti avvocati che dichiarano di chiamare per conto di parenti che si troverebbero in stato di fermo presso la questura per aver causato un incidente stradale. A questo si aggiunge la richiesta di ingenti somme di denaro per pagare la cauzione per la rimessa in libertà del loro parente. Dopo anni di ripetute truffe telefoniche ormai nessuno ci crede, tuttavia il fenomeno non è scomparso. Intanto la questura procede con indagini accurate anche grazie al personale della Polizia Postale.